Sì, oggi è stata veramente una giornata emozionante, una mamma ha deciso di lasciare la sua creatura nella cura della vita che è presente qui, presso il burrito di Bergamo. È la prima volta, dal 2019, che questo succede, direi per fortuna. Però quando abbiamo scelto di fargli ospitare la culla, il pensiero è stato proprio quello di dare una possibilità a una mamma che non se la sentisse di poter gestire una nuova creatura. Il personale che l'ha presa e l'ha portata in sede si è tutto emozionato, come se fosse figlia sua o una nipote sua sono diventati tutti i zii e i nonni. E questo è stato veramente una cosa che ha riempito il cuore.